Partiti dove stiamo andando, beh, in vacanza come tutti voi, ma le nostre sono un po' delle vacanze di lavoro perché abbiamo in serbo tantissime idee, stiamo lavorando per voi e qualche novità e qualche anticipazione la vedrete in questi giorni proprio sui nostri social network, però continuate a seguirci, vi aspetto a settembre perché il nostro staff sta preparando per voi tantissime novità, stiamo lavorando sodo per darvi sempre di più, allora non mi resta che augurare da parte mia e di Ferdinando Sarno buone vacanze a tutti e grazie dell'affetto che è sempre più caloroso, buone vacanze!